I carabinieri della stazione di Pizzoli, comandati dal maresciallo Alessandro Silvio e coadiuvati dai colleghi di Montereale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 86, di origine albanese ma residente nella provincia di Teramo, per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si riferiscono alla serata tra il 19 e il 20 aprile scorso, quando, nell'ambito di un controllo mirato, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati che riguardano gli stupefacenti, i carabinieri di Pizzoli hanno fermato un giovane del posto che alla loro vista ha repentinamente cambiato strada. Insospettiti dall'insolito atteggiamento, i militari hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a dei controlli. Dalla perquisizione personale è risultato che il giovane era in possesso di una dose di cocaina, che lo stesso ha dichiarato di aver appena acquistato dall'arrestato. Immediatamente i carabinieri di Pizzoli si sono recati presso l'abitazione dell'uomo a Montereale e dalla successiva perquisizione domiciliare si sono rinvenuti ulteriori otto dosi di cocaina nascoste in un barattolo contenente riso ed occultato in cucina nella piena disponibilità di tutti i residenti dell'abitazione. La sostanza rinvenuta presentava le stesse identiche caratteristiche di confezionamento della dose rinvenuta addosso all'acquirente e quindi è stato operato l'arresto per spaccio. La detenzione in casa di ulteriore stupefacenti ha fatto sì che i militari denunciassero il Stato di libertà e l'arrestato per detenzione e fini di spaccio unitamente alla sua convivente, una giovane del posto di 22 anni. L'assuntore è stato segnalato alla Prefettura dell'Aquila come re della legge. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso l'Istituto Penitenziario dell'Aquila dal momento che annovera a suo carico numerosi precedenti specifici. Effettuata l'udienza di convalida, all'arrestato è stato vietato di soggiornare nei comuni della provincia dell'Aquila costringendolo così a ritornare nel comune di residenza nel Terramano. L'attività svolta tra il 19 e il 20 aprile è solo l'ultima delle numerose altre già condotte in materia dalla stazione di Pizzoli che ha fornito decisivo apporto informativo al nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila in occasione dell'arresto di altri soggetti trovati in possesso di 50 grammi di cocaina pronti ad essere immessi nel mercato di Pizzoli, Barete, Montereale, Capitignano e tutto il circondario.